Il governo Draghi credo che abbia mantenuto gli impegni. Si era detto a inizio maggio quando era stato varato il nuovo decreto che sarà in vigore fino al 31 luglio che si sarebbe fatto un tagliando dopo due settimane per tentare di capire come andavano i contagi e quali aperture fosse possibile fare ulteriormente. Ebbene dopo 15 giorni di zona gialla abbastanza diffusa credo che sia stata una scelta saggia quella di cominciare ad allentare il coprifuoco non all'insegna del cancelliamo tutto riapriamo tutto basta la gente stufa ma all'insegna di una riapertura oculata prudente che possa far sì che le attività riprendano e che la gente si renda conto che la pandemia non è ancora passata ma si può pian piano tornare a una nuova normalità. Importante anche aver tracciato da parte del governo poi anche le tappe successive come ad esempio quella del 21 giugno come scadenza qualora i dati del contagio continuano ad essere positivi per cancellare il coprifuoco. Questo è un segnale importante soprattutto per la stagione estiva e per i turisti che ci auguriamo possano arrivare in maniera massiccia nel nostro paese anche dagli altri stati europei e non solo. Insomma un'operazione riapertura quella messa in campo dal governo che accompagnata anche dal nuovo decreto ristori che avrà particolare attenzione per le attività più penalizzate credo possa dare un segnale importante perché finalmente il nostro paese possa affacciarsi a una fase post pandemica che è fatta di ulteriore accelerazione sulla campagna vaccinale è fatta di progressive riaperture e di buone abitudini che non dobbiamo abbandonare all'insegna della prudenza perché ahimè i contatti interpersonali sono sempre un veicolo per un virus che non ci ha abbandonato e meno aggressivo sia per la stagione sia per l'avanzare della campagna vaccinale però è ancora presente non possiamo dire di averlo sconfitto ma possiamo dire di stare entrando in una nuova fase che può davvero far ripartire il nostro paese con tra l'altro anche elementi che ci portiamo come eredità significativa guardando in questi giorni Milano nonostante la sfortuna dei temporali serali che affliggono i ristoratori e i locali che hanno i tavolini all'aperto però dicevo Milano offre una nuova veste di sé perché fino a un anno fa pensare a una città dove si poteva pranzare all'aperto avere molti spazi per poter stare assieme anche con la consumazione all'aperto e la prorogativa solo di certe zone della città adesso stanno fiorendo un po' dappertutto queste attività è un nuovo modo di essere città che bisogna percorrere e bisogna anche reinventare per ripartire davvero dopo questa tristissima esperienza e dolorosissima esperienza della pandemia Grazie 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 Grazie